Buongiorno a tutti, mi presento, sono Mario Mazzitelli, titolare dell'azienda Luna Rossa Vini e Passione. Oggi ci troviamo alla Morella per la giornata di approfondimento in vigna. L'azienda ha avuto il piacere di partecipare a questa giornata di approfondimento. Luna del circondario dei Monti Picentini, produciamo attualmente circa sei vini, la linea Costa Cielo che sono dei blend, Aianico Cabernet per il rosso, Fiano Falanghina per il bianco, Merlot Cabernet per il rosato. Il Rosso Marea che è oggi in degustazione, che anche in questo caso è un blend di Aianico 80% o 20% di Merlot, un affinamento di 16 mesi in baric di primo, secondo e terzo passaggio con un ulteriore affinamento di sei mesi in acciaio per concludersi dopo un anno di affinamento in bottiglia. Gli ultimi due prodotti rimanenti sono i due crui aziendali che sono il Borgomastro e il Quartara. Il Borgomastro è un Aianico in purezza che ha un lungo affinamento di circa 24-36 mesi in legno grande, mentre il Quartara è un cano che viene fermentato e macerato in anfora per poi fare un affinamento, anche in questo caso in legno grande, per andare in bottiglia ed uscire sul mercato dopo circa due anni e mezzo di affinamento.